i giorni della carne e del sangue di persone che spesso poi alla fine si rivelano innocenti. Ribadisco Presidente e concludo, quest'Aula non doveva essere investita da questo dibattito, non è responsabilità della Presidenza, è responsabilità di coloro che l'hanno presentata, però io credo che di poter ribadire questo concetto, che non meritava quest'Aula oggi di discutere di una questione del genere. Io penso che noi dobbiamo, ripeto, fare in modo che la magistratura lavori serenamente, che accerti i fatti, che accerti le responsabilità, cercando di farlo con la maggiore rapidità possibile, ma non credo che un'iniziativa di questo tipo e una strumentalizzazione politica di questo tipo possa aiutare la ricerca della verità. Io penso quindi che la proposta delle due mozioni vada respinta con grande forza e a questo si rientrerà il voto di area popolare. La ringrazio collega Tancredi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo intende intervenire o si riserva di farlo successivamente? Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Grazie. L'ordine del giorno rega la discussione e le mozioni Rampelli ed altri 1.591 Brunetta e Giammanco 1.901 e grande ed altri numero 1.913 concernente iniziative volte alla revoca delle sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa e al raggiungimento della soluzione politico-diplomatica della crisi ucraina. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione pubblicata nel calendario avverto che sono state presentate le mozioni Ricciatti ed altri numero 1.914 Bekis ed altri 1.916 e Librandi ed altri 1.917 che vertendo su materia analogo a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. Relatività e stessi sono in distribuzione. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e scritta a parlare la deputata Gabriella Giammanco che illustrerà anche la sua mozione la 1.901. Prego deputata, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, la mozione di Forza Italia per dire stop alle sanzioni economiche contro la federazione russa nasce da quello che da sempre è il nostro principale obiettivo, difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani, difendere il made in Italy e le nostre imprese, difendere il lavoro e i lavoratori.